Torna anche quest'anno il concorso della comunità di Studio Iki. Ma che cosa consiste questo quinto concorso? Il tema è quello di ridoppiare alcuni episodi della serie animata di certi tizi che fanno cose, realizzando una vostra parodia reinventando l'episodio, eventualmente privandolo del senso originale e riarrangiandolo creando una sorta di vostra storia, usando le ispezioni preesistenti. Potete prendere l'episodio 5 o l'episodio 6. Potete ridoppiare uno di questi due integralmente, selezionarne una parte, rimontarlo creativamente o addirittura a fondere insieme parti diverse dei due episodi. E non preoccupatevi, non serve essere doppiatori professionisti per partecipare. Infatti non valuteremo le vostre parodie in base alla qualità del doppiaggio, ma sarà considerata l'originalità e la creatività del vostro riarrangiamento e soprattutto la comicità. Inoltre è consentito lavorare a una parodia e presentarla come gruppo, oltre che come singolo, specificando anche i singoli ruoli che hanno ricoperto i vari membri. Le parodie dei vincitori del terzo, secondo e primo posto verranno mostrate integralmente nei video dei risultati. E in più costoro otterranno rispettivamente un buon sconto da 2, 5 e 10 euro da spendere nell'acquisto di grafiche presso Studio Iki. In più, colui che si aggiudicherà il primo posto otterrà anche la possibilità di iscrivere un episodio OVA che animeremo e pubblicheremo sul canale. Piccola digressione, per chi non conoscesse il nostro lato grafico, noi di Studio Iki siamo un gruppo di 5 grafici che fanno grafiche su commissione. Puoi chiederci intro 3D e 2D, loghi, avatar, disegno in digitale tradizionali, copertine, miniature, elaborati 3D, icone, fotomontaggi, eccetera eccetera. Ottenere un buono come premio per la vittoria del concorso significa quindi poter richiedere una qualsiasi tipologia di queste grafiche per quel prezzo gratuitamente. Avete tempo fino al 10 novembre per inviare i vostri video. Trovate tutte le informazioni aggiuntive e moduli per l'invio del video in descrizione. Condividete questo video con i vostri amici per aiutarci nella buona riuscita del concorso, anche perché non si fa nulla se non escono almeno 10 partecipanti. Quindi non ci interessa come, ma vedete di far uscire 10 parodie, fatti i vostri. È il 10 novembre per i risultati. Esplodete! Io non la volevo fare questa cosa, mi ha costretto De Adriano 99. Se volete avere un esempio di parodie ben fatte guardate il canale in descrizione.